ehi da ben ritrovati che cosa significa quando si legge questo logo si è arrivata la nuova del gustabox proprio ora poco fa e non sto volendo perdere assolutamente tempo l'aprirò proprio con voi in diretta le altre volte quantomeno aperto lo scatolo per velocizzare invece questa volta voglio aprirla proprio in diretta con voi e quindi saprete con me il contenuto della della scatola questa volta sono riuscita anche a non spoilerarmela assolutamente anche perché l'account instagram di gustabox ha avuto un leggerissimo problema e quindi non ha funzionato poi presa da altre cose non ho scolo come si dice non mi sono messa a scrollare ecco la parola scrollare perché un nuovo termine che si usa per i social di facebook così instagram e quindi stavo dicendo non ho scrollato più di tanto facebook e non mi è apparso bene come si presenta la degustabox anzi piccolo riepilogo per chi magari si trova qui per la prima volta e non sa di che cosa sto parlando una volta a mese da un anno e più a questa parte faccio dei video dove vi faccio vedere questa scatola questa degustabox che non è altro che una scatola con dei prodotti alimentari all'interno soprattutto novità ed è un modo per le aziende di far scoprire i loro prodotti ovviamente ha un costo però rispetto al prezzo classico che si trova nei supermercati di ogni singolo prodotto qui viene dato in un'offerta particolare infatti una box di questa costa 16 euro il primo mese ad offerta speciale a 9 euro e 99 credo e giù nella scheda informativa che potete leggere cliccando sul titolo del video trovate il mio link con il codice sconto così da poter usufruire per il primo acquisto di questa offerta speciale a me non entra nessun soldo se non che dei punti punti che potete raccogliere anche voi una volta attivato l'abbonamento e che al raggiungimento di una determinata soglia poi si può richiedere una box gratis poi altro da dire su questo non mi sta venendo in mente perché in momento il mio pensiero è concentrato sul fatto che devo spacchettare devo rompere questo sigillo poi comunque magari se vi va per chi non le avesse visti può guardarsi qualche video precedente quindi se ho dimenticato qualcosa riguarda la degusta box ah ecco cosa stavo dimenticando e me ne sono appena ricordata l'abbonamento l'abbonamento si può attivare con il primo acquisto quindi con l'offerta speciale comprando l'acqua a 9 euro e 99 e poi disattivarlo subito dopo quindi non si è obbligati a mantenerlo per un tot periodo basta tipo io la voglio provare una prima volta visto che c'è questa offertina e poi non voglio più soffrire potete farlo benissimo mi sa che al contrario infatti la giro e voilà vediamo se riesco a farvela vedere meglio così ecco allora forse sì forse no forse la devo avvicinare bene come sempre all'interno si trovano le brochure con altre offerte perché degusta box fa anche altri tipi di box questa è la degusta box cold con prodotti freschi io non ho voluto mai provarla non mi fido dei corriere più che altro perché comunque qua in sicilia non lo so se magari poi mi arriva qualche cosa rovinato e nonostante comunque il servizio assistenza è precisissimo e disponibilissimo non voglio dare più io rotture a loro che loro a me ecco proprio il mio concetto è questo poi questa è la brochure con tutti i prodottini che troverò all'interno dove c'è il prodotto del mese poi magari la metto da parte così non me la voglio spoilerare ah ecco l'unico spoilerino è stato della farina questo sì l'avevo visto poi ci sono altre brochure sempre riguardanti i prodotti che sono all'interno quindi pan piumina sottofondo al solito ci sono i coco che fa non devono sentirsi anche loro nell'ennesimo video che giro e questo che cos'è antica cioccolateria chiedi nei migliori bar altre quindi cose vediamo vediamo cosa c'è all'interno bene scorriamo tutte le brochure ecco regala a chi ami un Natale speciale quattro motivi per scegliere degusto box vabbè poi magari ce la leggeremo magari meglio ecco andiamo sul vivo sul contenuto non vi faccio perdere tempo bene casa della piada marca che io ho conosciuto tramite degusto box e che abbiamo famiglia apprezzato molto per i prodotti che fa la sfogliata di grano duro c'è anche un concorsino collegato 100 per cento di semola di grano duro insomma sono delle piedine cosa sono cosa sono gusta la piada come piace a te si sono delle piedine pronte soli in tre mosse bene bene le dovevo comprare non le comprerò e questo è primo e sono già contenta e poi vabbè vabbè io amo la cioccolata in tutte le sue declinazioni amo anche gli oreo e giustamente la milk cosa ha fatto con gli oreo hanno fatto un mix quindi un pensiero per dirti se il top milk e ciao a dieta addio ci vedremo dopo le feste natalizie edizione speciale no vabbè come si fa a non amarla secondo me già è buona così perché amando tutti e due i prodotti poi poi plastica per evitare le rotture poi c'è Lipton limone ST zero zucchero anche questo una cosa che posso sicuramente bere visto che è punto zero zucchero e questa non la conoscevo voi conoscete ovviamente questi prodotti che vi sto facendo vedere magari me lo dite giù nei commenti chupa chups questi snack questo è un buffer crunchy choco dark quindi al cioccolato fondente buffer praticamente con praline e cioccolato fondente e questo gabri non lo mangerà perché non ama il cioccolato fondente quindi questo ce lo divideremo io e l'altro mio figliolo ho le spezie io adoro il fatto che nella degustabox trovo sempre delle spezie ho adorato e stra amato quello sale e zenzero infatti lo sto già terminando spezzi la drogheria sapori creativi pepe bianco e sabbia anche questo credo che sarà stra utilizzato poi noto qua una bottiglia di sfumante cosa sarà dicevo una piccola brevissima interruzione voi non state avvertito non avete avvertito nulla perché ho bloccato stavo vedendo questa bottiglia che cos'è che cos'è uno spumante penso non vorrei fare no birra birra da bazia no vabbè una bottiglia di queste è una bottiglia di birra birra da bazia martodozzo caramello aromatico luppolo no vabbè entusiasta al massimo andrò a metterla subito in frigorifero poi pavesini cosa si fai con i pavesini sicuramente non il tiramisù che per carità ognuno ha i propri gusti ma la morte del tiramisù sono i savoiardi non sicuramente i pavesini con i pavesini facciamoci altre cose oppure li mangiamo così perché io sicuramente non arriverò a farci nessun dolce perché i ragazzi li divoreranno poi pan piumino pane morbidissimo per i più piccoli ma qua oltre ai piccoli ci sono i grandi bio sei solo ingredienti senza zuccheri aggiunti vabbè questi andranno a finire subito perché ce l'hanno divorati in un anno secondo poi pasta armando lo spaghettone con il bel faccione di borghese trafilata al bronzo anche questo grano italiano anche questa pasta già provato sempre grazie alla degusta box e quindi questo quanto è un pacco da mezzo chilo credo sì sì da 500 grammi anche questo sicuramente ci farò uno spaghettino magari una carbonara e poi altri snack sempre chupa chups questo invece al cioccolato al latte sempre con crema di arachidi e riso croccante bene benissimo poi ecco quella brochure vediamo che cos'è un picco cioccolateria cioccolata bianca extra ma che cos'è è un preparato in polvere per bevanda calda al gusto di cioccolata bianca no vabbè il top ecco perché c'era scritto di richiederla nei bar e questo invece è ops è anche un pochino spaccata ecco un pochino spaccata e quindi starò attendo a metterlo adesso una copertura preparati in polvere per bevanda calda a gusto di cioccolata fondente cerco di farvele vedere senza perdere il contenuto questo qua ecco rimettiamolo così così non perdo l'interno ops un po' di polverina di cacao poi ricola ricola caramelle al balsamo di pino le ultime ricola novità che poi ho visto anche in tv nelle pubblicità non ci sono piaciute per niente quindi vedremo queste come saranno magari inizierò ad utilizzare youtube shorts così piccoli video dove posso magari aggiornarvi rapidamente su cosa ne penso dei vari prodotti poi un'altra lattina di lipton queste invece tè alla pesca sempre senza zuccheri ok queste le andrò a nascondere io praticamente per poterle bere in solitaria almeno per poterle assaggiare ed un ultimo la farina la farina che non guasta mai averne a casa farina di grano tenoro tipo zero ah per fare la pasta in casa ok ideale per pasta fresca effettivamente in questo periodo mi è venuto un po' voglia di fare pasta fresca infatti lo so che dovrei farvi fare il tour della cucina nuova ma ancora la sto sistemando voi non ci crederete ma da giugno fine giugno è stata montata praticamente luglio io ancora sistemo cose e quindi sono riuscita a svuotare l'ennesimo scatola dove c'era appunto per la macchina della pasta fresca e quindi sono ancora sempre in evoluzione vorrei prima terminare di sistemare bene le cose prima di farvela vedere ma ve la farò vedere poi quindi dicevamo farina farina di grano tenero ideale per la pasta fresca e con questo si conclude la degusta box con in primo piano questo bel paccone di farina ok io credo che più soddisfatta di così di questa nuova degusta box non potrei essere anche i coco stanno apprezzando il contenuto metto un po' di prodottini così ve li faccio vedere tutti insieme ad eccezione dell'altra cioccolata perché se la gira al contrario ne perdo veramente il contenuto e poi possiamo sniffarlo invece di mangiare la cioccolata calda e niente le lattine bene voi come cosa vi sembra di questo degusta box vi piace? conoscete già questi prodotti avete potuto vederli e provarli perché comunque si trovano nei supermercati magari sono nuove nel senso che li hanno appena messi sul mercato e quindi non subi ad occhiabili ma si trovano di sicuro io non ho mai visto questo ed è quella che veramente mi colpisce ed è quella che sicuramente sarà apprezzata dagli ometti di casa detto ciò io vi saluto vi rimando al prossimo video vi do una rivedeccia al prossimo video e come detto cercherò di sfruttare gli shorts di youtube così vi aggiorno man mano di quello che è il mio parere su questi prodotti vabbè i pavesini i pavesini li conosciamo tutti eh cioè non è che c'è da fare recensioni particolari sui pavesini ma sicuramente su quella cioccolata lì questa qua ha qualcosa da dire l'avrò di sicuro ed è sicuramente un assaggio che farò nell'immediato quasi nell'immediato diciamo che sarà la mia merenda un quadrettino la mia delutizionista tanto non mi segue non sa che faccio video non c'è stata occasione di poterlo dire e quindi non scoprirà mai questo piccolo segreto ecco bene ancora di nuovo un saluto a tutti e a presto ciao